Allora mentre una grossa, grossa fetta di persone, diciamo ormai da qualche mese grida alla vittoria giustamente è convinta che finalmente è finita, le schede video ci sono, la crisi dei semiconduttori è terminata in realtà ci sono una serie di cose sulle quali dovremmo un attimo riflettere che ci fanno capire che fondamentalmente ragazzi qualcosa voi non lo state capendo perché le cose non stanno proprio così, vediamolo insieme ragazzi diamo il benvenuto al nostro nuovo sponsor che è Hookies Hookies è il portale dove potrete acquistare chiavi di software, giochi e tanto altro ragazzi potrete trovare soprattutto chiavi di Windows 10, di Windows 11 e di Office 2019 grazie al mio sconto infatti con il codice MHD avrete diritto al 25% in meno sul pagamento finale di tutti i prodotti software Windows 10 ad esempio potrete portarvelo a casa a soli 15 euro anziché 20 e lo stesso vale per Windows 11 e Office 2019 acquistare è semplicissimo, basta inserire il prodotto nel carrello, scegliere un metodo di pagamento che più vi piace tipo non so, Paypal e la chiave vi arriverà direttamente tramite l'email a quel punto vi legate in impostazioni nella sezione sicurezza e nella parte dedicata all'attivazione inserite la vostra chiave di Windows ed il gioco è fatto, Hookies ragazzi trovate tutti i link giù in descrizione ciao ragazzi bentornati in un nuovo appassionante video qui sul canale di Marco Verdoliva che sarei io grazie, se non mi conoscete iscrivetevi al canale perché voi malandrini guardate i miei video ma non vi iscrivete pensate che se tutti quanti quelli che stanno guardando questo video si iscrivessero al mio canale io arriverei a 45-46 mila iscritti, ho fatto il calcolo una volta quindi lasciate un'iscrizione, datemi una mano qui a sostenere il canale, lasciatemi un like, un commento e giù in descrizione trovate tutti i vari link ai miei social bene, una cosa la dobbiamo dire, su una cosa proprio non ci piove e questo è un dato di fatto, da qualche mese a questa parte ormai le schede video sono belle, lì disponibili e acquistabili un po' da tutti quanti i prezzi tra l'altro sono calati proprio ieri, non so se voi seguite il nostro canale telegram delle offerte, MV Hardware una 6700 XT ad esempio l'abbiamo postata a 586 euro che non è diciamo un prezzo proprio vicino all'MSRP ma si avvicina tantissimo e soprattutto è il più più basso, il prezzo più basso che fino a oggi abbiamo potuto vedere anche la 6800 se non mi sbaglio siamo riusciti a postarla intorno alle 750 euro una cosa del genere quindi l'errore che molte persone stanno facendo in questo preciso momento è pensare che in realtà il problema diciamo dei semiconduttori, la crisi mondiale che c'è stata fino al 2021 sia finita in realtà non è vero assolutamente perché i motivi del calo dei prezzi delle schede video e la loro disponibilità sono legati ad altri fattori il primo fattore in assoluto secondo voi qual è? è il calo della domanda cioè c'è stato un calo della domanda in questi mesi tale che le schede video restano lì, non si vendono e quindi fondamentalmente i prezzi calano chi se la voleva comprare la 3000, ve l'ho detto 100.000 volte, ve l'ho detto in un sacco di video la scheda se l'è comprata non aspettava fino a oggi per comprarsi una 3060 Ti o una 3070 diciamo che chi compra adesso è l'ultimo strascico le persone indecise che non sapevano se comprarle oppure no e poi a questo punto sono convinte e in ogni caso c'è poi il discorso che a luglio probabilmente uscirà una nuova generazione di invidia eccetera eccetera quindi il mercato fondamentalmente è fermo quello delle schede video ma tutto il resto ragazzi sta ancora soffrendo i patimenti della mancanza dei semiconduttori che c'è ancora vuoi che in Cina continuano con questa loro politica dei lockdown forzati dove chiudono praticamente qualsiasi cosa vuoi che comunque le poche aziende che producono semiconduttori ancora non sono riusciti a appianare un po' la richiesta che hanno avuto dal 2020 fino a ora il problema di produzione c'è ancora e c'è sempre e ragazzi non è che quando usciranno le 4000 all'improvviso si risolveranno i problemi quando usciranno le 4000 le vedremo col contagocci così come abbiamo visto le 3000 questo mettetevelo nel capoccione mettetevelo nella vostra bella testolina il fatto che ci siano stati dei miglioramenti negli ultimi mesi ma che comunque la questione non è risolta basta diciamo vedere provare a comprare oggi una playstation 5 una xbox come mai? cioè noi stiamo qua ormai da più di un anno che sono uscite queste console e ancora se voi provate a cercare una playstation 5 voi non la trovate sono console che stanno arrivando con il contagocce continua ad arrivare con il contagocce e c'è stato anche un recente intervento di Pat Gelsinger del SEO di Intel che ha spiegato come la crisi di materie prime e di semiconduttore probabilmente si protrarrà fino al 2024 quindi dimenticatevi che voi a metà luglio entrate su Amazon e vi comprate la 4080 così a prezzo MSRP perché state proprio sbagliando continuo io a rinnovarvi l'invito a prendere in considerazione le schede video che sono uscite anche ultimamente con i vari refresh perché altrimenti facciamo come è successo a settembre vi ricordate del 2020 che abbiamo venduto l'agenda ha venduto le 2080 Ti ok pensando di comprare la 3070 a 500 euro e poi l'hanno presa a quel servizio quindi non vi mettete a vendere 3080 a 500 euro perché la vedo un po' così così inoltre ci sono anche tutta un'altra serie di problematiche che giustamente le persone non conoscono oppure non sanno per esempio noi abbiamo avuto settimana scorsa un alert ci è arrivato una sorta di email di attenzione da parte di Conica Minolta che è un'azienda che produce anche dei macchinari di radiologia voi sapete io mi occupo di radiodiagnostica il mio lavoro dove ci hanno avvertito di una carenza di neon sul mercato ora il neon il gas viene utilizzato da queste aziende tra cui Conica Minolta e altre aziende Kodak eccetera eccetera per la produzione di alcune lampade ok che servono per sviluppare le cosiddette radiografie perché conoscete le radiografie il neon perché vi parlo di questo perché il neon viene anche utilizzato in alcuni laser e cimeri che intervengono nel processo di litografia dei semiconduttori e perché c'è carenza di neon carenza ma non è un parolone perché in realtà la maggior parte delle aziende hanno delle buone approvvigioni ma c'è carenza perché il neon che viene estratto dall'aria viene estratto da una serie di aziende e due di queste importanti aziende indovinate dove si trovano? in Ucraina e hanno chiuso quindi c'è stato un calo di produzione di circa il 30% di neon che in alcuni settori ha dato problemi ma manco farlo apposta anche alcune aziende produttrici semiconduttori come TSMC si devono stare attenti pure a questa nuova problematica quindi vedete che è un po' una situazione che genera vari problemi e non è una situazione risolta assolutamente e comunque è difficile prevedere da qui a sei mesi, un anno il mercato come si muoverà anche sulle nuove schede una cosa è sicura che PlayStation 5 e Xbox Series X continueranno ad arrivare ancora per un bel poco il contagocce e quindi dovrete continuare a fare a botte con chiunque per potervene comprare una a meno che non ve la comprate in sovrapprezzo benissimo con questo video è tutto noi ci vediamo domenica dove vi mostrerò faremo una recensione di un prodotto veramente fatto bene non vi perdete il video di domenica e come sempre ragazzi lasciatemi un like scrivetemi un commento e noi ci vediamo prossimamente ciao ragazzi ciao 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 ciao